Ci sono diversi casi che sono successi qua in zona, l'ultimo qui in via, una delle vie qui in fondo, il Rugoletto, dove sono stati colti in fragrante due ladri che sono stati giustamente cacciati dal proprietario che è rientrato in concomitanza con l'evento. Protagonista dell'avventura, un barista appena rientrato dal lavoro in un locale di Mirano. Al suo rifiuto di consegnare loro lo zaino che portava in spalla, i ladri lo hanno colpito con un badile. Lui ha reagito scacciandoli dal suo giardino a testate e gomitate, per poi deriderli su Facebook. Ritentate, scrive Beffardo, tra gli applausi dei concittadini, forse sarete più fortunati. Non tutti però a Veternigo di Santa Maria di Sala hanno il suo coraggio e in molti, soprattutto anziani, si dicono preoccupati dall'escalation di furti degli ultimi tempi. Chi c'è che ferma questi furti? Se c'è paura di andare fuori a casa, a noi non puoi massare a casa libera perché c'è paura, bisogna che sia uno sempre a casa. Solo che siamo tirati. Ce ne sono stati diversi, anche nel mio condominio, tempo fa, poco tempo fa, da mia nipote, sempre qui in zona, il quartiere qui dietro. In via Rugoletto i residenti si difendono come possono. Non c'è giardino senza suo cane da guardia e molti si sono dotati di videosorveglianza e nella zona è attivo anche il controllo di vicinato. Nulla di tutto questo ha fermato le continue incursioni notturne dei predoni. Non hanno paura di niente, sospirano i cittadini, che chiedono un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine. Le pattuglie che girano secondo me non sono sufficienti perché alla fine io sono quasi sempre qua fuori in giro, più o meno quasi tutte le ore del giorno e scarseggiano.